Io sono un vecchietto e poi mi vedrete più giovane, non compatibilmente con l'età che so che tanto non si può fare. E poi c'è Roby. Io sono il manutentore, sono colui che cerca di fare il suo lavoro, fatto al meglio, ma mi trovo sempre questo signore tra le gambe che mi crea dei problemi. E' sempre divertente e stimolante a fare queste cose qua. Lui appoggia anche l'interno, vedo che si appoggia anche con l'interno. Molto carico. Ci siamo divertiti in un sacco.